E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, siamo ancora qua con GTA V, la missione numero 21. La scorsa è stata la prima missione, ragazzi, dove sono stati coinvolti tutti e tre i personaggi, ovvero era non c'è due senza Trevor. Oggi invece, proprio da Trevor, ripartiamo da dove praticamente abbiamo salvato l'ultima volta. Niente po' di meno che quello, come non cambia neanche il fatto che, vi chiedo sempre il vostro supporto con un like, con un'iscrizione e con tutto quello che sapete fare e direi che noi siamo pronti, prontissimi per passare a Los Santos. Questo V di sottofondo, ragazzi, non è altro che il ventilatore perché sono 37 gradi, solo per dirvi questo. Vamos! Oh, trevorino, è giorno e io a sto punto, però, andrei qui per volare a Los Santos, ragazzi, perché, cioè, col cazzo che specco 8 minuti della mia vita per fare la traversata con la macchina, cioè, capite bene, ecco. Ecco, questo potrebbe essere un mezzo potenzialmente buono per andare a prendere un elicottero, un aereo, quello che sia. Insomma. Si è messo a sparare il coglione! Chi è? Si, vabbè, è un po' immanovrabile, eh, cioè, è un po' simile alla macchina GTA IV, poi è un'accelerazione che è veramente basa. Vabbè, cosa vuoi pretendere da un affare del genere? E' vero, è anche quello. Comunque, guarda, basta che tu mi dia un mezzo che vola, poi... Di cosa si tratta? No, dimmi che lo posso usare, per favore. Non voglio un volo acrobatico, voglio qualcosa che voli. E quindi, niente, sta per succedere quello che non volevo che succedesse, ovvero farsi la traversata. Che poi perché è al deposito di mozione forzata la mia macchina? Non ha senso. Sì, non ci andrò con questo, tranquilli. Tranquilli. Adesso... Adesso attuo il piano B. Che non è Chang. Ma... Sono i taxi. Dato che... C'ho sordi. Attuerò questo piano. Speriamo che lo sia, allora. Amore. Amore. A posto. Scrippiamo tutto quanto. Ora voi mi dovete spiegare perché mi avete sequestrato la macchina. Che gusto c'è nel sequestrarmi la macchina? Brutte teste di minchia. Che mi hanno sequestrato una moto, poi, in realtà. Allora, dov'è il veicolo personale di... Raga? Ora, magari mi sarò perso qualcosa, eh? Però... Perché non c'è il veicolo personale di Trevor? Vabbè, almeno ho preso questa, meglio di nulla. Il ricordo di quello che erano i Lost. Fantastico. Che poi... Te li sequestrano, no? Cioè, è divertente perché te li sequestrano. Ti vengono considerati veicolo personale? Devi pagare per il discatto. Però se ci sei a giro E li distruggi O ti vengono distrutti E niente ragazzi, inaspettatamente abbiamo una missione, meglio. E quindi forse Tutto quello che abbiamo fatto Ne valsa la pena Posso cambiare personaggio Invece non lo cambio personaggio Forse faccio meglio a cambiarlo E... Dicevo Ti vengono distrutti E non ti ricompaiono Non ti ritranno nuovi come per esempio il veicolo personale O... La moto di Franklin No! Cioè, se io compro una macchina Da quel che ho capito, eh, magari mi sbaglio Compro una macchina online E li distruggo? Sono cazzi miei! A GTA 4 questa cosa vale due volte Comunque niente Potevo cambiare personaggi Ma me la sono presa con calma Perché poi tanto Mi piace godermela Mi piace godermela Mi piace godermela Ah, devi perdere questa cosa, man Eh, I know I take speed mostly And look at me Boom, best shit for my life Yeah, I could still take you sugar tits That's because you're fucking deranged Not because you're in good shape Hey, why don't you stick through Fucking crunches And feeling bad about yourself All right, Porkchop Hey, fuck you You know, I'm beginning to think That's exactly what you want to do No Te pensa che Trevor C'ha il tatuaggio di Michael Oddio questa missione La adoro You, you back there I know you But you You I don't know Yeah, well until I see reason otherwise Why don't we just keep it that way Steve What a pleasure, bro Oh It reminds me of one of those guys You see advertising pills For middle-aged men That can't get erections Hey, Devin Weston He's a very good friend of mine So why don't you watch your tongue Because let me tell you something That guy gets more tail than Than a tail catcher I have to fucking remember that line You Where did we meet? Nowhere, pal Yeah, we did Hey, oh What are we doing here, huh? This Eh, quello catturato nella missione scorsa Adesso Make sense It's okay I've got some new friends here now It's okay This is Michael And this This is Trevor No Now our friend here No Già lo sa I don't know anything I don't know I already told nothing Nothing I don't know Anything Please Con la gaffa Che animali Huh? Azerbaijanis I do Audiovisual High-five audiovisual It's top man Group wise VIP You know You're a fucking spy And the asswipes at the agency know this So I need to know What did you tell them And what did they tell you? Hmm? I told them What I tell you Uh-huh What I I Hey What is this? The house In Rockford Hills The man who owns it He works at the consulate Oh That's all I know That's it That's it That's it That's it I go You're gonna make him speak No 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 You two are gonna drive up to Rockford Hills No And when we find out which man is the man with the problem You put him down No 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 Because I'm tired of these fucking nitwits at the agency Ovviamente a torturarlo ci rimane Trevor giustamente What the fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy You know Go for a drive Wait, wait No You get to work And uh I'm not here The guy's your neighbor Caesar's place Rockford Hills Ma i veicoli personali proprio non vi piace, vero? I was you I wouldn't be so critical of who others associate with So is he gonna be a problem? For sure But there's nothing we can do about it If something happened to him right now I'd be right under a microscope An electron microscope of bureaucratic shit Ahhhh Make it very difficult to keep holding secrets Oh well Boo hoo 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 for you You know who else is having trouble keeping secrets, asshole? Me After you brought Trevor in on this I only brought him in after you put out your press rocks Townley's taking scores again The Los Santos reboot If we didn't control the city Oh yeah I screwed up my car Ho aperto il mare come Mosè And he don't hurt this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family or raises him as his own I don't know which is worse Anyway, any of that could happen at any time Slow down Let's think this through What does he know? He knows I'm alive He knows I got money And now he knows I'm working with the FIB Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the cash depot job You walked your crew into an ambush One of them spent ten years on the run And the other landed in a federal penitenti Or Or We stumbled on the cash depot job Brad went down You went down Comunque, Michael sta facendo la stessa fine di Nico, eh? Lavorare per l'FIB Praticamente la cosa che più di tutti viene combattuta in questo gioco In un modo o nell'altro Si ritrovano coinvolti Incredibile Comunque siamo arrivati Remember after the bust I was in all the papers I was on the evening news This is bullshit This place Davey They've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks No way that's your guy Shit You are kidding me I'll call Steve Wrong house This guy isn't our guy Okay, okay, okay You sure you don't silence him just to make sure? If we're silencing someone We're silencing the right someone Get me another address Hey, you want a coffee? Che bello Allora Se siete sensibili Chiudete sto video Davvero Io lo farei Perché sono un caga sotto Per alcune cose Partiamo dal peggiore Destrazione Del dente Almeno Ce la togliamo subito di torno Fa macchissimo Eh, cazzo dal cazzo Sennò non era una tortura, no? Chava What did you ask me? I know they're here I did this home deal He lives in Chumash The ride on the western highway That wasn't so tough, was it? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash The western highway Loro Tranquilla Prendersi il caffè Addirittura terrorismo Mamma mia Sincro So how are Steve and Trevor getting along? Seems like a productive relationship Well, like I said, he's got his uses And as you can see, we're trying to take full advantage of him Then what? This thing with the agency gets put to rest and we don't need you anymore Right And what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey You let him walk You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton And you told me it'd be a clean job No casualties There are more eyes on that town than they need Yeah, well, according to my eyes Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine He's not a problem at all We're monitoring Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has Plenty I keep changing the subject You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over That's good Fine work We'll send another letter It's about time anyway Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah He thinks they're from Brad Who he thinks is locked up in high security and not, well, not six feet under in a grave marked Well, not six feet under in a grave marked Michael Talon The train is right, it's a good exercise Yeah, the fuck How'd that get started? A posto Stavo leggendo i dialoghi anche un po' per rinfrescarmi la memoria, ragazzi Cinque anni non gioco sto gioco Brad Brad Trevor è convinto che sia vivo E che nessuno sia morto da quella famosa rapina del prologo In realtà È Brad Che è sepolto sotto terra Sotto il nome di Michael Talon lì Cioè pesissimo Greve Allora, Dent abbiamo già dato Dai Capezzoli elettronici Electronipoles Ah 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 Zan definitely Hard Oh 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 God Oh Let'sfun Oh Oh no How Oh 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 Zì, ma di tutto così non ti fa torturare, no? Così difficile Potrebbe essere lui Vabbè, noi siamo arrivati a Masochisi Allora Una bella rintronata It ain't even the biggest tool in the room What? Oh, oh, it's going to hurt Nutcracker So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No, no No, no, no No, no, no He's got beer He's got food, he's got food Beer Uh-huh I think you're making this up No, no, non lo so! Sto dicendo la verità! Non è una bella? Hai alcuni tipo di bella a questa partita? Perché è tutto che il signor K ha dato. No! Sto pensando che magari prendere due bollette e mettere le nostre formate e chiamare un'airstrika di Chumas Beach. Siamo inizialmente, dimmi un oce. Ce n'è due con la barba. Chi ho cercato? Steve ha detto bella. C'è qualcosa specifico? Questo ce n'era anche un altro. E adesso... Il gran finale. Forse quella più leggera. C'è comunque una tortura, eh? Dai, ti ha detto che fuma! Ovvio. Help me pick this up! Peso! Non me lo aspettavo questo, non me lo ricordavo affatto. Con tutta la minchia insanguinata, poveraccio. Che bella, bastava puntare una pistola alla tempia? Anzi, no, perché si sarebbe fatto uccidere. Quindi avrebbe senso. Che cazzo faccio sapere se fuma Redwood? Questo è destro? Questo è mancino? Oh, ora ho capito. Tu mi dicevi di assassinarci un uomo perché ha i capelli facili, una cigaretta, e... E' l'altra mano. Ti dicevi di assassinarci un uomo perché è un ufficio alla sicurezza nazionale. Il resto sono i dettagli. Questa è destra. Eccolo qui. Asebagiani mi fa morire. Che poi tutti gli altri invitati alla festa hanno fatto come i piccioni. Sparato. Fum! Spariti. Incredibile. Cioè, tipo, succedesse a me. Spero non succeda mai. Mi ci farebbero almeno tipo 15 secondi per riuscire a capire cosa è successo, dove mi trovo, cosa sta succedendo. O poi durante una festa. Fate voi. Lì come piccioni in piazza San Marco. Fum! Via! Coraggio. Dove lo portiamo? Oh, il veicolo di Trevor, finalmente! E' vero, l'aeroporto? E' vero, l'aeroporto? Oh, la sicurezza prima. Ehi, come è la tua testa? E' spazio. Puoi parlare? Sì. E' vero? Uh, mettere lo portiamo con uno stovettano. I don't want to go home. I want to see my family. No, 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 no. You have no home. You have no family. That shit is over. I do! They're in the plane woods. I love them very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're going to get on a plane. You're flying a long way from this country, and you're going to spread your message. Ma è stronzo Trevor Magari Sto tizio può salutarci Liberti City Quanto manchi Quanto manchi Liberti City Non ne ha idea Apposto eccoci qui Ai Fruit 9X Vabbè almeno non l'ha embarcato su un aereo Può prendere un taxi e tornare a casa Insomma se ci arriva vivo a fondo alle scale Da manuale 90% Don't stop me now Ho fatto tutto Mi mancava una sola cosa Ho fatto tutto bene Ma quanto fa schifo la vita Quanto cazzo fa schifo la vita ragazzi Adesso devo andare a salvare però dall'altra parte della mappa Perché come mettesi piede in una delle tre case Succederebbe che parte la prossima missione quindi Fammo le cose con coscienza 120 dollari fra Sede fuori Comunque vi saluto Con questa bellissima immagine di Ron Noi ci vediamo alla prossima Alla ventiduesima E sarà Sopralluogo al porto Ve lo anticipo già Sempre like Iscrizione Campanella Tutto quanto Ci vediamo Per la ventiduesima Grazie ragazzi Un bacione da altri Grazie a tutti